Friuli Innovazione ha registrato in questi anni quasi 800 idee di imprese, ha supportato più di 250 business plan, creato oltre 60 imprese e più di 230 posti di lavoro. Una delle attività di cui l'incubatore va più fiero è anche la capacità di offrire il supporto di sviluppo imprenditoriale alle imprese culturali, creative e turistiche, i cui risultati si vedono anche nella graduatoria dei finanziamenti della regione Friuli Venezia Giulia. Ai piani alti delle classifiche sono molto spesso proprio le aziende che si sono affidate ai consulenti di Friuli Innovazione. Il fatto che chi ci ha scelto si sia posizionato ai primi posti della graduatoria è ulteriore motivo di orgoglio e stimolo a lavorare con motivazione e passione per far crescere nel nostro territorio una sempre maggiore cultura dell'imprenditorialità. Anche nel settore della cultura ha commentato i dati il direttore di Friuli Innovazione Fabrizio Feruglio, ricordando che secondo studi di Union Camere il sistema produttivo, culturale e creativo vale il 6% del PIL nazionale.